bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che è appena passata questa è la rubrica per chi vuole sempre tenersi informato su investimenti finanza e mercati finanziari questa come sempre buonanotte mercati ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla ciao a tutti e bentornati su io risparmio come sempre sono pasquale il vostro amichevole risparmiatore di investitore della porta accanto come ogni lunedì buonanotte mercati vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana che si è appena conclusa come sempre parliamo di mercati economia finanza e notizie importanti che possono avere impattato gli investimenti ma soprattutto la nostra vita sociale ne parliamo come sempre in maniera distaccata dando numeri e non sensazioni cominciamo subito tra le notizie più importanti della settimana la prima è che l'unità di alfabet google ma anche meta e altre grandi piattaforme online dovranno fare di più per contrastare i contenuti illegali o rischiare a quel punto pesanti multe in base alle nuove regole internet che sono state concordate sabato tra i paesi dell'unione europea e i legislatori dell'unione europea l'accordo è arrivato dopo oltre 16 ore di trattative del digital services act il dsa e il secondo polo della strategia del capo antitrust dell'unione europea margaret verstager di tenere a fermo l'unità di google metal e di anche altri giganti tecnologici statunitensi il mese scorso ottenuto il sostegno del blocco dei 26 paesi e dei legislatori per regole fondamentali chiamate digital markets act dma che potrebbero costringere google amazon apple meta microsoft a cambiare le loro pratiche commerciali principali che hanno in europa vedremo a questo punto quali impatti ci saranno sulle aziende menzionate la seconda notizia che il produttore dei semiconduttori broadcom è sotto esame da parte della federal trade commission degli stati uniti a seguito dei reclami che stia forzando accordi esclusivi con i clienti riportando secondo quanto viene detto su di information l'ftc è nelle prime fasi di raccolta di informazioni sul fatto che broadcom che è diventato uno dei principali fornitori di chip wifi bluetooth per aziende ad esempio come apple abbiano accordi di esclusività illegalmente magari forzati ai propri clienti broadcom sta incolpando la crisi della catena di approvvigionamento per giustificare le sue richieste da parte dei clienti questo è quello che afferma il rapporto citando persone a conoscenza della situazione è un documento visto da in the information l'ftc ha rifiutato di commentare mentre broadcom non ha risposto immediatamente una richiesta di commento anche da parte dell'agenzia reuters nel luglio dello scorso anno ftc ha dichiarato di aver presentato una proposta di ordine per risolvere le accuse dell'antitrust contro la società l'ordine di consenso richiedeva broadcom di smettere di chiedere ai suoi clienti di acquistare componenti principalmente o solo da broadcom tra l'altro broadcom ha raggiunto un accordo simile con la commissione europea nell'ottobre del 2020 la terza notizia è molto interessante infatti venerdì il segretario del tesoro degli stati uniti janet yellen ha affermato che vale la pena prendere in considerazione l'adozione di misure per abbassare le tariffe statunitensi sulle merci cinesi vissi gli effetti desiderabili che una tale mossa potrebbe avere sull'abbassamento dell'inflazione statunitense che quest'anno ha raggiunto i massimi da 40 anni vogliamo fare tutto il possibile per abbassare l'inflazione ha detto yellen a bloomberg tv citando i bassi del presidente joe biden per rilasciare il petrolio dalla strategic petroleum reserve e le mosse per affrontare le interruzioni della catena di approvvigionamento i commenti di yellen arrivano il giorno dopo che un consigliere della casa bianca dalip sing ha dichiarato che gli stati uniti potrebbero abbassare le tariffe imposte su una serie di beni cinesi e quindi non su tutti di tipo non strategico come biciclette come abbigliamento per aiutare appunto a combattere l'inflazione sing che funge da vice consigliere per la sicurezza nazionale di biden ha affermato che le tariffe imposte dall'amministrazione trump potrebbero sì avergli dato una leva negoziale ma non hanno avuto alcun scopo strategico abbassare tali tariffe e concentrarsi su aree più strategiche comprese le tecnologie critiche potrebbe rappresentare una buona opportunità a quello che ha affermato appunto sì andiamo a parlare di numeri che questa settimana piombano in una delle peggiori settimane di questo anno andando a portare le perdite complessive del 2022 ha quasi un meno 7 per cento per il dow jones ha un meno 10 e mezzo per cento per l'S&P 500 e ha quasi un meno 18 per cento per il nasdaq con l'indice vix che da inizio anno ha regalato un bel più 63 per cento circa per quanto riguarda la settimana appena passata invece l'indice peggiore americano è e continua ad essere il nasdaq che perde un 3 83 per cento seguito dall'asse 2000 che perde il 3 21 per cento poi l'S&P 500 che lascia sul terreno un meno 2 75 per cento e infine il dow jones che perde un 1 81 per cento per quanto riguarda invece gli indici mondiali continua la discesa del moex russo che da inizio anno ha perso un 41 per cento del suo valore vedendo quest'ultima settimana a un meno 7 95 per cento le wig 20 polacco segue a un meno 5 73 per cento e poi seguire l'indice szse components di shenzhen e chiude a un meno 5 12 per cento a parte il vix questa settimana è stata poco verde e quello che c'è stato ha avuto delle variazioni piuttosto modeste in testa troviamo l'indice atx austriaco con un guadagno dell'1,09 per cento seguito da set index thailandese con un più 0 97 per cento di guadagno e poi altia 35 israeliano con un più 0 78 per cento piazze europee prevalentemente in rosso con il nostro amato fuzzimib che perde il 2 34 per cento per quanto riguarda i settori migliori e peggiori del panorama statunitense anche questa settimana di forti sofferenze ci sono stati dei settori che hanno però dato delle soddisfazioni e in particolare il settore della silvicottura che aggiunge al 4 8 per cento positivo della settimana precedente un ulteriore 4 6 per cento in segno positivo di quest'ultima settimana a seguire il settore delle infrastrutture con un più 3 3 per cento e le aeroline che guadagnano un 3 per cento settori negativi che sono tristemente guidati dal settore dell'intrattenimento con quasi un meno 15 per cento trenato ovviamente verso il tompo dal ribasso eccessivo che così si può definire di netflix seguito poi dal settore estrattivo e dei metalli che chiude a un meno il 9 5 per cento e poi ai servizi energetici che chiudono la settimana un meno 7 e mezzo per cento passiamo invece al mondo cripto che ad oggi sabato 23 aprile giorno in cui sto registrando questo video continua a seguire sì il trattato azionario assestandoti su prestazioni negative ma questa settimana non lo segue in maniera parallela e infatti da sabato scorso il total crypto index stock market in questo tipo di bitcoin perde solo un 0,75 per cento le due grandi cripto bitcoin ed ethereum perdono rispettivamente il 2 per cento per bitcoin e il 2,75 per cento per ethereum uno dei maggiori cari lo subisce ripple con quasi un meno 10 per cento e anche ethereum classic che quasi chiude con un meno 9 per cento tra le prestazioni migliori da evidenziare terra con un guadagno del 15 per cento positivo tron con un più 9 e mezzo per cento monero con un quasi 16 per cento positivo infine apcoin con un più e 35 per cento bene eccoci arrivati alla fine del mini aggiornamento dei mercati per la settimana che si è appena conclusa dove ci porterà il futuro i mercati e rendimenti non lo sappiamo ma con questa rubrica che guarda al passato e guarda anche al presente cerchiamo di capire cosa ci vogliono portare i mercati oggi e dove vogliono portarci anche domani spero che come sempre questo contenuto sia stato apprezzato e di gradimento se così foste per favore lascia un bel commento ed anche un bel pollice in su per l'algoritmo di youtube e anche per la mia soddisfazione personale inoltre se sei nuovo sul canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo buonanotte mercati torna come sempre lunedì prossimo noi invece ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao